Dottor Sergio Iorio, non è un'istituzione perché è un manager, però ha fatto delle cose veramente interessanti. Avevo chiesto alla regia di mandarmi una slide, la slide dell'Italmatch, riesci a mandarmela? Arriva. Allora vi faccio vedere come una piccola impresa può diventare grande, può diventare un leader mondiale, una piccola impresa ligure che trattava fosforo che nel 2005 fatturava 25 milioni, già una dimensione per la Liguria abbastanza importante, nel 2022 ha fatturato 862 milioni. Guardate la progressione dell'EBITDA in alto, di solito quando si aumenta il fatturato la marginalità decresce, qui è esplosa. Ecco però la storia di Italmatch, come sempre i numeri sono molto scarni, però danno un'idea. Ecco, io vorrei che il dottor Iorio mi aiutasse a comunicare l'entusiasmo e le cose che sono state fatte in questi vent'anni, perché oltre che a trasformare un'azienda che produceva le cappelle dei fiammiferi, ve le ricordate, oggi è diventato un leader mondiale nei prodotti di economia verde. Ci ricorda un po' quali sono state le tappe al galoppo, perché poi vorrei che parlasse anche di quello che fate nell'ISG. Assolutamente, grazie, grazie dell'invito. E senza altro con grosso piacere che ricordo velocemente la nostra storia, di cui sono senz'altro molto orgoglioso e soddisfatto. E ringrazio anche in sala il dottor Turci, che è stato con me fin dall'inizio della nostra avventura, nel 1998, quando partimmo con un piccolo, ancora più piccolo di quello che ha citato lei, di management buyout, perché lei è partito da 25 milioni di euro, noi partimmo da 20 miliardi di lire più o meno nel 1998. Acquistando dalla Saffa, che forse qualcuno in sala può ricordarsi, che era la vecchia società produttrice di fiammiferi, comprammo lo stabilimento chimico, che era una chimica assolutamente di estrema nicchia, che faceva fosforo per i fiammiferi. E ovviamente il mercato dei fiammiferi era sostanzialmente terminato e morto alla fine degli anni 90, protetto prima dal monopolio. E quindi noi intravedemmo molte opportunità in questa chimica, partendo da zero. E ovviamente l'innovazione fu la chiave di tutto fin da allora. E poi la nostra innovazione si è molto evoluta nel corso di questi nostri primi 25 anni. Ma vedemmo delle possibilità immediate e concrete. Per questo facciamo l'acquisizione, perché la prima cosa fu lo sviluppo di prodotti a base fosforo per il contrario esatto di quello per cui erano stati usati fine allora. Cioè il fosforo produce fuoco ed è stato usato per 100 anni o più per fare fiammiferi. E noi invece utilizzammo, attraverso tecnologia, attraverso ricerca e sviluppo, utilizzammo il fosforo per spegnere la fiamma nei polimeri termoplastici. Ovviamente questo fu fatto in collaborazione con un primo nostro grosso partner, che era BASF, allora, che ci chiese aiuto, perché ovviamente era una chimica molto specialistica. BASF, per chi non lo sapesse, è la più grossa industria di chimica tedesca. La più grossa di chimica mondiale, direi. La più grossa di chimica mondiale, direi. La più grossa di chimica mondiale, direi. BASF, un'anilite fabbriche. E quindi questa fu, diciamo, la vera prima partenza, la prima scintilla di innovazione. Poi da lì cominciamo a produrre prodotti sempre a base fosforo per la lubrificazione dell'auto, dell'auto tradizionale, motore a combustione, perché il fosforo ha delle proprietà di antiusura e lubrificazione, che ancora oggi è uno dei principali componenti del pacchetto di un olio motore. Quindi questa fu la partenza. Ovviamente si vive, e soprattutto ho imparato, diciamo, nostre spese e anche a beneficio, che un'azienda è fatta di persone. Quindi noi di fatto comprammo un piccolo stabilimento. Però attorno a questo stabilimento costruimmo da subito un team molto competente sia dal punto di vista tecnico, amministrativo, commerciale. E decidemmo di localizzare la sede dell'azienda già nel 1998 a Genova. Perché? Uno dei motivi, l'ha detto la dottoressa prima, Genova è stato un enorme serbatoio di risorse tecniche e tecnologiche grazie alle partecipazioni statali. Il dottor Tucci è più genovese di me. Io ho fatto l'università a Genova e poi ho lavorato una decina d'anni tra Ansaldo e Ilva prima di prendere strade completamente diverse. ma Genova offriva delle risorse, delle competenze straordinarie che venivano purtroppo dalla fine di quelle aziende, dalla Nira a Ansaldo e a Ilva. E quindi decidemmo di stabilire la base che è il quartier generale di Italmecce che da lì cominciò a espandersi al di fuori dall'Italia e oggi posso dire che gli 800 e passa milioni che facciamo li facciamo più del 90% all'estero con un gruppo centrale di 50-60 persone basate a Genova che fanno tutta la parte di corporate, di finance e amministrazione. Velocemente, poche tappe, poi magari passiamo all'innovazione. Ovviamente questa crescita dai 10 miliardi di lire del 98 agli 850 milioni è avvenuta sostanzialmente per due linee di sviluppo. Una è stata quella della crescita cosiddetta interna e quindi attraverso la nostra innovazione, la nostra capacità di ricerca e sviluppo. Abbiamo anche fatto, supportato da partner finanziari, diverse acquisizioni. Ne abbiamo fatti più di una decina nel corso degli anni e di queste alcune sono state proprio delle acquisizioni di start-up puramente tecnologico dove abbiamo acquisito tecnologie innovative. Faccio degli esempi, ne abbiamo comprate tre negli ultimi anni. Una è un'azienda che produce in linea con l'economia circolare, produce additivi addirittura per l'estrazione dell'oil and gas nel mare del nord partendo da scarto di salmone. Quindi quanto mai circolare, applicazione in una industria che non è affatto ovviamente sostenibile o circolare. Un'altra è un'azienda che è specializzata in resine per il recupero dei metalli preziosi dalla miniera o dall'acqua di trattamento di una miniera. Recuperiamo platino, nickel, cobalto, oro attraverso queste resine. E una terza che serve sostanzialmente per prodotti lubrificanti speciali. Quindi innovazione interna ed innovazione per linee esterne, anche attraverso acquisizione. Volevo chiederle a questo proposito, quanto hanno contribuito i temi della transizione ecologica sulla spinta all'innovazione del prodotto? Voi lavorate per l'eolico, la geotermia, l'acqua e il riciclo di batterie. Questa spinta di contesto è stata una molla potente, mi sembra di capire. Assolutamente sì. Direi che c'è stata una prima fase di posizionamento dell'azienda tramite innovazione nel passare da un'azienda produttrice, fornitrice di molecole chimiche e prodotti chimici a soluzioni. E questo è stato un grosso primo passaggio prima ancora dell'avvento dell'ISG. Cioè noi cerchiamo non di vendere un prodotto chimico ma di vendere una soluzione ad un problema. Con questo passaggio ovviamente e con la sensibilità di Italmatch per l'ISG, Italmatch tra le altre cose è una società semipubblica diventata oggi, nel senso che abbiamo un bond quotato a Vienna e a Londra. Quindi è evidente che ci interfacciamo con... Semipubblica vuol dire che in mano investitori privati, cioè pubblica nel senso del pubblico di investitori. Cioè non confondiamo, visto che abbiamo parlato di industria pubblica, non ci sono fraintendimenti. Assolutamente no, semipubblica, semi nel senso che noi oggi siamo un'azienda privata di proprietà del management assieme a uno dei più grandi fondi di investimento che è Ben Capital, un fondo americano. E da pochissimo? Sì. E da pochissimo? E da pochissimo, per una quota di minoranza, un fondo arabo, il fondo governativo arabo che si chiama Dussur, posseduto dal fondo sovrano arabo PIF, perché noi abbiamo visto un'opportunità in Arabia nel lungo termine per la crescita e loro hanno visto in Italmatch la possibilità di esportare tecnologie ad alto valore. Diciamo che volevo riprendere, mettendo l'accento sul tema del titolo del nostro panel, giocare la carta dell'innovazione. Quindi volevo ritornare un attimo dal dottor Iorio per riprendere il discorso su quello che è stato appunto l'impatto della transizione ecologica sui prodotti. In questo momento voi su che cosa siete soprattutto impegnati? Sì, come avevo concluso prima la prima parte dell'intervento, noi prima di tutto ci siamo sostati sulla risoluzione di soluzioni. Nell'ambito delle soluzioni, Italmatch, ma forse anche prima che venisse fuori l'acronimo e la moda dell'ISG e l'interesse dell'ISG, Italmatch è già da sé spostata per rispetto degli stakeholder su soluzioni sostenibili e circolari. Quindi abbiamo definito già da 5 o 6 anni tre assi di sviluppo dell'innovazione di Italmatch su soluzioni, uno, energie alternative, sostenibilità ed elettrificazione. Per quanto riguarda le energie alternative, oramai sono già alcuni anni dove siamo per esempio leader nella lubrificazione delle turbine eoliche in partnership con Shell Lubricants. Siamo molto forti nella parte antincrostanti per la geotermia, che è una cosa molto importante perché ovviamente produrre energia geotermica si va a 60-70 metri sottoterra e ci sono degli ambienti sfavorevoli che tendono a occludere l'uscita, la fuoriuscita del gas e dell'energia e quindi noi preveniamo la formazione di queste occlusioni. E non ultimo invece nel fotovoltaico anche abbiamo un ruolo importante, sempre in partnership con BASF che fa i pannelli a sua volta per dare tutta la parte di ritardanza di fiamma e di additivi che rendono i pannelli, danno una vita più lunga ai pannelli all'esposizione solare. Quindi questo per quanto riguarda le energie alternative. Per quanto riguarda l'elettrificazione, anche qua stiamo giocando un ruolo molto importante e in questo caso siamo parte di tre consorzi europei e siamo il leader tecnologico di questi tre consorzi. Uno riguarda la lubrificazione dei veicoli elettrici che è completamente diversa dai motori a combustione interna perché non deve creare aumenti di temperatura per la vita della batteria. Questo è uno. Un altro molto importante è che noi partecipiamo allo sviluppo della futura generazione di elettroliti. Elettroliti sono quelli che conducono l'elettricità da un catodo ad anodo dentro la batteria. Fino ad oggi noi siamo da molti anni fornitore di elettroliti cosiddetti liquidi che però hanno manifestato problematiche nelle batterie di sicurezza con fiamme, esplosività in alcuni casi e quindi sono molti anni che si sta ricercando il nuovo elettrolita solido che darà un vantaggio, uno, di sicurezza, due, di maggior possibilità di densità energetica dentro la batteria e con una maggiore stabilità termica. Siamo in collaborazione da un lato con aziende giapponesi da parecchi anni e stiamo cercando, grazie ai fondi europei, di portare l'industria delle batterie in Europa sia per gli attuali elettroliti liquidi sia per i futuri elettroliti solidi ma questo è un problema secondo me socio-politico da non trascurare. Oggi non esiste una fabbrica europea di batterie, le batterie vengono prodotte a basso costo Leggiamo che però ci sono un sacco di progetti, di megaprogetti Progetti e megaprogetti ci sono, però non ci sono ancora le fabbriche e oggi tutte le batterie sono importate a basso costo dalla Cina o ad alto costo dal Giappone Che portano poi anche il problema dell'inquinamento cioè le batterie per portarle qua con cosa le portano? Cioè voglio dire alla fine Assolutamente e questa è un'osservazione corretta tant'è vero che un altro progetto di cui siamo leader tecnologici in Europa è il recupero dei metalli dalle batterie perché dentro la batteria c'è litio, cobalto e nickel oggi e noi abbiamo con quella tecnologia che dicevo prima noi oggi recuperiamo, aiutiamo a recuperare e recuperiamo in maniera molto selettiva nickel, cobalto e litio in modo tale che possano essere riutilizzati per la produzione invece che essere smaltiti con un certo livello di pericolosità L'altra cosa, forse questa è una cosa più di lungo termine la vera e propria circolarità di alcune soluzioni che stiamo sviluppando una era quella che dicevo prima dell'utilizzo dei scarti di salmone un'altra molto interessante e di medio periodo è quella del recupero del fosforo dai rifiuti solidi dai rifiuti urbani solidi e liquidi il fosforo, ci tengo a dire che non molti lo sanno ma il fosforo è presente in centinaia di applicazioni quotidiane dalla detergenza, dalla pulizia dal lavaggio delle bottiglie a lubrificanti per oli motore, antifiamma quindi ci sono tantissime applicazioni quotidiane il fosforo è una materia prima ovviamente che oggi viene prodotta da miniera da fosfato e poi sì, c'è tutta la catena chimica però stiamo lavorando, siamo vicini alla produzione di un impianto pilota per recuperare il fosforo dagli scarti dai rifiuti, questo sarebbe veramente un salto fondamentale assolutamente posso fare una domanda io veloce a tutti? come no? iniziando da Dottor Razzetto che ci vede in collegamento voglio parlare un po' della formazione perché abbiamo anche qui con noi dei ragazzi che stanno facendo l'Accademia Navale poi c'è la professoressa eccetera cosa ne pensate, cosa c'è da fare, cosa c'è da dire in una battuta ai ragazzi liguri che forse perdono anche un pochino di fiducia io ho lavorato parecchio in Liguria e vedo che i ragazzi puntano sempre solo dica sì o no, professoressa al posto fisso senza pensare poi alla qualità per paura poi di andare a Milano di andare da un'altra parte, di fare i pendolari cosa manca a questi ragazzi? la formazione come deve essere? l'Accademia Navale è già un'eccellenza che abbiamo qua all'istituto però voi come imprenditori che cosa vi sentite di dire con una battuta? diciamo due aspetti prima di tutto ovviamente il modo di lavorare e il mondo del lavoro è cambiato dopo Covid e quindi ci sono maggiori richieste di home working al tempo stesso invece dal lato positivo notiamo che molti giovani soprattutto nell'area innovazione, sostenibilità a volte sono loro molto esigenti nei confronti dell'azienda sono loro che pongono domande difficili o critiche sul vero commitment dell'azienda quindi ci sono vari aspetti ecco grazie